Come sta Fabrizio Frizzi oggi dopo il malessere? La sorpresa shock in diretta VinZuiden Fabrizio Frizzi dopo il terribile malore, ecco come sta oggi, il video del ritorno in tv. Come sta cancelletto Fabrizio Frizzi a distanza di un mese e mezzo dal terribile malore che lo colpi mentre si trovava negli studi della DER di Roma per registrare le nuove puntate delleredità, il popolarissimo gum show in onda su Rai 1. E questa la domanda che si pongono i tantissimi fan del conduttore, desiderosi di avere notizie sul suo stato di salute dopo che ha fatto prendere a tutti un grande spavento. Gli aggiornamenti su Fabrizio Frizzi dopo il terribile malore. E ben le ultimissime news rivelano che qualche settimana fa sulle pagine della rivista che sono apparse le prime foto di Fabrizio Frizzi in compagnia di sua moglie e della sua amata figlioletta a poche settimane dal malore che lo colpi negli studi delleredità. Frizzi appariva sorridente e felice del fatto che tutto fosse tornato di nuovo come prima. Ma il vero colpo di scena è arrivato solo questa mattina, nel corso della diretta della prova del cuoco condotta da Cancelletto Antonella Clerici su Rai 1. In occasione del compleanno della padrona di casa del co-kig show di Rai 1, ecco che Carlo Conti è arrivato nello studio della prova del cuoco con uno dei regali di Natale più belli di sempre che Antonella e il pubblico di Rai 1 potessero ricevere in questo momento. Con grande sorpresa, infatti, è arrivato in studio anche Fabrizio Frizzi per la sua prima apparizione televisiva dopo il malore shock di qualche settimana fa. Un ritorno che ha ovviamente lasciato senza parole la padrona di casa della prova del cuoco, la quale proprio non si aspettava di rivederlo di nuovo in televisione proprio nello studio della sua popolare trasmissione. Ecco il video di Fabrizio Frizzi che torna in tv da Antonella Clerici. E invece Fabrizio ha deciso di fare questo regalo speciale ad Antonella e a tutti gli spettatori di Rai 1, annunciando il suo ritorno immediato in televisione al timone della trasmissione Leredità. La prima puntata del game con Frizzi andrà in onda il prossimo 15 dicembre su Rai 1 alle 18.45. Ma questo potrebbe non essere lunico impegno della stagione per Frizzi, visto che i suoi amici gli hanno detto che hanno intenzione di condurre con lui una nuova edizione dei migliori anni, lo show revival di Rai 1 che fino a questo momento era stato presentato dal solo Carlo Conti. Al momento non si sa ancora quando andrà in onda la trasmissione, ma la Clerici e Conti hanno ammesso di aver parlato già con il direttore di Rai 1. Intanto per chi non avesse seguito la sorpresa che Fabrizio ha fatto oggi al pubblico tornando in tv su Rai 1, può rivedere il video cliccando qui.